Noi non siamo minori di nessuno, nel senso che il concetto stesso di minore implica un giudizio che non si capisce su cosa sia basato, su cosa voglia dire. Da tanti punti di vista noi siamo sicuramente uno sport non minore, ma se si può dire non si può dire maggiore. Era giusto anche farlo vedere a tutti, farlo capire a tutti. Credo che qualcuno se ne sia reso conto, anche perché abbiamo un po' la tendenza a parlare tra di noi. Io dico sempre che va benissimo, però noi dobbiamo cercare di far sì che anche gli altri sappiano quello che facciamo. Ci vuole impegno, determinazione, volontà, portarla avanti con tenacia anche nei momenti di scoramento, anche nei momenti in cui sembra che tutto vada male e noi siamo stati capaci di farlo. Quando dico noi dico tutti, tutti quanti, ognuno di noi sempre ha portato il suo mattoncino alla costruzione di questa realtà.